Signori, buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospio è su questo canale. Avendo finalmente finito la trattazione in generale della struttura narrativa in tre atti, almeno per quanto riguarda le basi, poi sicuramente bisognerà fare altri video in futuro. Prima di andare avanti però è meglio fare il proverbiale passo di lato e guardare quello che abbiamo imparato nei vari video delle fondamentali del dungeon. Scrivere una quest è un lavoro complesso. Sapere un metodo, essere bravi anche ad applicarlo, di per sé non basta garantire che si stiano facendo le cose per bene. E dato che i tre metodi di scrittura fondamentali per le quest oramai li abbiamo visti, cioè il metodo del dungeon, il metodo di cinque stanze e la generale struttura narrativa in tre atti, questo video lo dedichiamo a prendere un'idea e analizzarla per vedere qual è il metodo migliore che ci conviene applicare per trasformarla in una quest. Prima di andare avanti vi devo avvertire che in questo video andremo a fare una trattazione particolare della terza fase della ricostruzione di un'idea, cioè la fase di applicazione. Ci avevo fatto un video qualche mese fa, sì quello lungo e noioso, e in quel video avevo già detto che prima o poi sarebbe arrivato un video a seguire per spiegare la struttura in maniera particolareggiata che sarebbe questo video qua. Per ragioni di tempo non starò a ripetere tutto quello che ho detto nell'altro video. Se non lo avete visto andate a rivedere, vi metto il link qua sopra. Se non lo avete visto sappiate che probabilmente non capirete tutto quello che si vede in questo video, quindi vi conviene andarvelo a vedere. Non vi preoccupate, io vi aspetto qui. Fatto? Bene. Ovviamente per poter applicare un metodo di costruzione e un'idea dovete avere un'idea iniziale e come detto nell'altro video delle idee non si butta mai via niente, quindi per questo video andremo a riprendere la stessa idea che abbiamo usato l'altra volta, cioè quella degli avventurieri e del drago. Di conseguenza la nostra idea iniziale per cominciare a spiegare il metodo sarà proprio un gruppo di avventurieri deve affrontare un drago in un campo di lava. Il primo metodo di cui abbiamo parlato sul canale oramai due anni fa è il metodo del dungeon, quindi cominciamo da quello. Quei video sono talmente vecchi e prima o poi dovrei cambiarli. Per il metodo del dungeon il campo di lava palesemente è un corridoio. I giocatori dovranno attraversarlo per raggiungere la stanza del drago. In realtà si tratta di un corridoio sia in ingresso che in uscita dalla stanza perché poi dovranno nuovamente attraversarlo per andarsene da lì. Potrebbe anche essere considerato una trappola in quanto potrebbe danneggiare il party quando vi passa attraverso. Il drago è ovviamente il mostro della stanza del drago. Un corridoio o due corridoi e una stanza sono un po' poco per creare un dungeon. Bisognerebbe aggiungere altre stanze magari con altri incontri, mostri infuocati, comunque mostri a tema lava e qualcosa che faccia dare ad ingresso per i giocatori. Diciamo che l'idea è un po' troppo scarna per poter applicare il metodo del dungeon. Per quanto riguarda il metodo del dungeon il campo di lava è palesemente una stanza dell'enigma dell'interpretazione. I giocatori dovranno scervellarsi e trovare un modo per superare la lava senza conseguenze negative che sia applicando qualcosa di meccanico, una regola del gioco o anche riuscendo a trovare qualcosa di pura interpretazione. Il drago è sicuramente lo scontro più duro dell'intero arco narrativo, quindi si qualifica automaticamente come stanza del climax e porterà al tesoro rivelazione. Il tesoro del drago, le sue monete d'oro potrebbe di per sé essere banalmente un tesoro che gli avventuri rive acquisiscono, ma anche aver pulito la strada, aver sconfitto il drago potrebbe già di per sé essere un tesoro perché li faciliterà a compiere imprese più avanti. Teoricamente mancherebbe una stanza dell'entrata del guardiano, però possiamo considerare che un campo di lava sia un guardiano sufficiente di sé stesso per giustificare il perché nessun altro ha compiuto l'impresa prima. A questo punto non resta che inserire qualche genere di complicazione per soddisfare la stanza dell'inganno e l'imprevisto. Potrebbe banalmente essere qualche mostro elementare con cui dovranno scontrarsi in mezzo alla lava prima di arrivare al drago o magari anche qualcosa di legato alla geografia instabile del territorio, scoppi di lava, zolle di terra che si spostano, cosa del genere. Con questa semplice aggiunta abbiamo tutte e cinque le stanze per soddisfare un dungeon delle cinque stanze. La struttura internati è l'ultima arrivata qui sul canale, anche se oggettivamente è la più vecchia ed è anche quella più complessa da essere valutata nell'immediato. L'idea di per sé non è abbastanza approfondita per poterne ricavare un arco narrativo principale interessante. Il drago sicuramente è un ottimo villain, un antagonista potente, memorabile, carismatico, tutto quello che si vuole, però dovrebbe avere un po' più di spessore, un po' più di profondità. L'unica cosa che sappiamo su questo drago è che vive nella lava. Potrebbe però essere molto comodamente un arco minore, magari durante il secondo atto, magari nella prima parte del secondo atto in vista del ribaltamento di metà dell'atto. Gli avventurieri saranno ringalluzziti, saranno presi bene dal fatto di aver sconfitto un mostro così potente come il drago e questo aumenterà la loro crisi con l'arrivo il punto di svolta del secondo atto. In più i campi di lava di per sé potrebbero essere un elemento dell'ambiente importante da introdurre in vista di scontri successivi, magari più significativi per la trama. Ovviamente anche per usarla come arco minore richiede di qualche rifinitura. Prima di tutto il campo di lava in generale richiederebbe un minimo di introduzione. Gli avventurieri dovrebbero avere la possibilità di vederlo in un'avventura precedente o comunque sapere la sua esistenza prima di trovarselo davanti. Magari potrebbero assistere all'eruzione del vulcano che l'ha fermato. Potrebbe essere anche un'idea quella di non parlare mai del drago in modo che possa essere un colpo di scena per il finale del piccolo arco narrativo. I giocatori si aspettavano solo di dover incontrare qualche elementare facile da sconfiggere. In questo modo l'arco avrebbe sia un suo primo atto di introduzione sia un suo climax per il terzo atto sul finale. Non è molto materiale su cui lavorare, per un arco minore può andar bene. Evidentemente l'idea iniziale è un po' scarsa per soddisfare un'intera struttura narrativa in tre atti. Questo però non è di per sé un lato negativo. Anzi, il fatto di poter eliminare a priori un tipo di struttura è un fattore positivo. Non dovremo sprecare tempo più avanti. Abbiamo già eliminato qualcosa che avrebbe potuto portarci delle complicazioni più avanti in fase di stisua della quest. Anche per quanto riguarda il metodo del dungeon, l'idea contiene un po' troppi pochi elementi per poter creare qualcosa di abbastanza strutturato. Potrebbe essere utilizzata come parte di un dungeon più grande. Anche in questo caso dipende quale funzione questo arco narrativo deve svolgere all'interno della nostra quest. Se il drago deve essere un avversario importante, deve essere un climax della vicenda, l'idea è da scartare senza perdere altro tempo. Se invece deve essere una digressione, potrebbe comunque essere usata anche se non a sé stante ma integrata con qualche altra idea. L'idea però sembra perfetta per quanto riguarda il metodo delle cinque stanze. Bastano alcune modifiche molto veloci da fare. In realtà basta aggiungere una stanza anche semplice e il metodo delle cinque stanze, il dungeon delle cinque stanze fondamentalmente è già pronto. Questo è appunto quello su cui dovremmo concentrarsi se vogliamo trasformare questa idea in una quest. Lo scopo di questa fase della scrittura è appunto questo. Scartare tutte le idee che farebbero perdere tempo e darebbero complicazioni per poterci concentrare solo su quelle su cui siamo sicuri di poter imbastire qualcosa di solido. Nel nostro caso è stato il metodo delle cinque stanze. Ovviamente io in questo video mi sono concentrato solo sui tre metodi fondamentali che vi ho già visto nei video qua sul canale. Ovviamente ne esistono altri, magari voi avete sviluppato i vostri, altri master hanno sviluppato i loro. Nella pratica è indifferente. L'importante è che prima che vi mettiate a affrontare il lavoro di scrittura vero e proprio, vi prendiate un attimo, riflettete su quali tra i vari metodi di scrittura voi conoscete si applicerebbe meglio all'idea che voi dovete inserire nella quest. Procedendo direttamente col metodo più adatto, risparmierete tempo e questo è uno dei tanti trucchi che si hanno per eliminare il tempo perso in fase di scrittura per poter creare le quest nella maniera più veloce e efficiente possibile per poi poterle portare in tempo al tavolo da gioco. Spero che vi sia tornato utile come consiglio. Se avete altri consigli da dare in master anche a me, perché metodi per accelerare il lavoro più ce ne sono meglio è, scriveteli nella sezione dei commenti qui sotto. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo, credo a crescere il canale. Se non volete perdervi i prossimi video, schiacciate il tasto alla campanella. Io sono il Master Kai, noi ci vediamo nel prossimo video.